Di conseguenza per il Cittadella non sarà sicuramente una passeggiata salutare la gara di questa sera dovrà sudarsela e secondo me troverà di fronte una formazione Intanto seguiamo quest'azione di Litteri che va giù in area di rigore la decisione del signor Robilotta che ammonisce per simulazione il numero 9 della formazione di casa Rumoreggia il pubblico sugli spalti, disapprovazione per la decisione del signor Robilotta Abbiamo un'immagine che non ci chiarisce del tutto l'intervento da parte del difensore del Pordenone e i danni di Litteri Tutto questo dopo appena un minuto e quaranta di gioco, quelli Litteri entra in area, altra finta E forse ha visto bene l'area Sì ha visto bene anche se probabilmente un lì